Oggi Ascoli Piceno, dalle prime impressioni, sembra un posto ben ignorante, quelli che ci piacciono a noi. C'è il menù fisso. Sì. 12 euro. Buono. Croccante fuori, morbida dentro. Allora signori, sono arrivati i primi. Orcaccio. Cioè, dimensioni assurde. E abbiamo preso due maccheroncini di campo filone. Pasta della zona tipica, pasta all'uovo. La una con ragù e un'altra col macro... Ascolano. Ascolano. Buono. Si sente parecchio l'alice. Abbiamo una bella spinta al piatto. La pasta è meravigliosa. Non so quanto rende dal video, ma qui saranno due etti e mezzo di pasta. Pollo carotolato intorno alla pancetta. Qui abbiamo una salsiccia e le costine di maiale. Poi abbiamo già portato le patate al forno. Allora When You Li Raffi Helga. Raffi Helga. Come, come? الظ 대�ively Grazie a tutti.